Dobbiamo fare un'analisi del meta, allora io adesso ho aperto un po' di pagine, parto da Goldfish perché voglio partire da Standard per capirci qualcosa Goldfish, ho preso gli ultimi sette giorni del formato Standard, e ragazzi ma che cazzo è successo mentre ero via? Aspettate che cambio canzone e mettiamo sotto un po' di chill, ma che cacchio è successo mentre ero via ragazzi? Com'è possibile che Lizard sia cresciuto così? Sì, la lista poi ve la faccio vedere, al massimo scrivimi in privato su Discord che te la mando Che cacchio è successo? Cos'è successo con Lizard? Com'è possibile che Lizard sia il secondo mazzo più giocato in Standard in questi sette giorni? Ha vinto qualcosa? Ah qua, Rakdosagro, fa vari 5-0 su MTGO Ma pensa Vabbè, allora, mazzo ancora più giocato del meta è Domain Io sinceramente non avevo dubbi, perché Domain è veramente un mazzo forte in Best of 3 Vedo che la lista è sempre la classica, con questo nuovo pezzo incredibile di Blomburro Poco da dire, è sempre quella la lista, quindi Domain si conferma un mazzo vero, due Bezza, Missa di Side, mazzo verissimo, forse il mazzo più forte di Standard Ma sono curioso di questo mazzo Beh, è il classico... È il classico Lizard Crime Davvero è cresciuto fino al 12%? È così forte questo mazzo, ragazzi Da provare, eh, in Standard? Io avevo già giochicchiato Però sicuramente è da provare, allora Ah, gioca 4 dip adesso Perché fa crimine anche lui È certo E lo puoi fare gratis col GECO Questa cosa è molto interessante Bisogna vedere se poi confermano questi dati anche le partite di MTGA in Best of 1 Dopo andiamo a vederlo Quindi, sicuramente Lizard Ah, aspettate, è già cambiato però Aspettate che c'è stato un aggiornamento in diretta No, com'è possibile che sia così diverso? Eh, no, no, ok, 7 giorni, perfetto Poi Golgari Midrange che rimane sempre quello Golgari Midrange è sempre quello Gioca la combo Vraska e spell fortissima in Keeper Talent Decide Nissa, sì, classico Questo non è cambiato di una virgola in questi giorni Gruul Prowess che credo che sia la versione Monored che flinga Sì, esatto Solo che ci giocano il Quest in Druid Quindi ci mettono dentro anche i Proteggini Ovviamente in Best of 3 mettere i Proteggini Audacity Ha un senso veramente buono Giocherà le Lynch, immagino, anche Non giocano più la Lynch? Oppure questa lista non la gioca? Beh, classico comunque Questo è forte sia in Best of 1 che in Best of 3 C'è poco da dire Si può giocare anche Monored Mono White Token Yo Toon, grazie mille per il diciottesimo mese Grazie di cuore Grazie, 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 grazie Mono White Token Che è un bianchino Vecchio stile che gioca Carrot Cake e Cartaker Talent Ok, Virtuof Loyalty Molto bella questa lista Voglio provarla Molto bella questa lista Molto interessante Ma che bello standard così Molto bella Poi Dimir Mid Range Classico Classico Dimir Scusami Malcom Davvero? Interessante Ciao Datrock Ciao Leoman Ok, Dimir ci sta Ah, questo fa È un Dimir praticamente Tempo Sembra un Dimir tempo No, un Dimir Mid Dai, sì, è un Dimir Mid È un Mid Rangeone Che poi chiude di breccia E di controllo board con i pezzi Ok Ma è interessante anche questo Questo non gioca carte nuove Mi sembra Esatto Non ha carte nuove Sì, molto carino anche questo È da provare È da provare Poi dopo Dimir Abbiamo la versione Monored Del mazzo di prima Ah, questa sì Questa l'ho vista Anche questa voglio provarla È molto diversa Dalla mia versione che gioco Però gioca tre linci di main Che in best of one È una scelta pessima In best of three È una scelta molto sensata Invece Mi piacciono Anche questo mazzo Mi sa che carri Ha tantissimo Su arena Secondo me Questo è un mazzo Che i giocatori Penso in rank Lo possono usare tanto Per salire velocemente Di rank Questo sicuramente sì Poi non vuol dire Che vada bene Infatti Al 5.1% Del meta La sua versione Gru Al 2% in più Sono numerini Che poi fanno la differenza Azorius Convok No, Agro Azorius Agro Mockingbird Novizio Ah, è Convok Agro È Convok Azorius Sì, l'ho visto anche questo Non è proprio Convok Ho capito che lista è È interessante Ma mi piace di meno Degli altri mazzi Questa Secondo me è un po' più fragile Sì, sì È un po' più fragile È un mix tra il vecchio biscotti E un pacciugo nuovo Dei token Ho capito che lista è Non mi piace particolarmente questa Ma non penso che abbia Una percentuale altissima Infatti 4.4% Questo io me l'aspettavo più alto Non pensavo anche questo 4.4 Ha fatto un 7.2 Nell'ultimo evento Classico Boros Control Che abbiamo già visto Boros Token Chiamatelo come volete Alla fine la chiusura E Cartaker Talent Con Forge C'era già questo mazzo È rimasto piuttosto bassino Vedo nel meta Almeno come presenta Presenta la stessa cosa Immagino a Zorius Control Che è la sua controparte Questo l'abbiamo anche già giocato Mi piace molto A Zorius Control Così Ha la conferma Che poi Cartaker Talent È una grandissima carta di Magic Orzov Midrange È precipitato Ok È un mid Live Gain Praticamente Come mai è sceso così tanto? È interessante questo mazzo Perché è sceso così? Ma cosa non sta dietro? Agro dovrebbe stare dietro abbastanza bene Ah forse è Domain Però c'è Deep Cavern Ah sì Forse è Domain Quello che gli dà più fastidio Anche Golgari Credo che abbia una marcia in più Rispetto a Orzov C'è Sky Agro e Convoke Ok Sempre quello Five Blade Ma mi ha aperto un Orzov Midrange Ah ok Blade è l'artefatto che blinki Col Garden of Gear a puro Sì ma esisteva già questo mazzo Credo che l'abbia giocato anche Una content creator famosa Non mi ricordo se Ash Leeds forse Sì mi sta di sì Convoke è sceso tantissimo Sì Ma perché Domain se lo mangia Con tutti i lockdown che ha È stata lei È stata lei vero Erendir Ok Poi Boros Agro Boros Mice Creighton Grazie di cuore per il ventunesimo mese Grazie Grazie mille Boros Mice Livello bassissimo Ormai hanno capito che Monored è più forte Però interessante che esista Anche in Best of 3 Mazzotopi Mi piace questa cosa Mi piace molto Va bene E chiude il tutto Due budget deck Che sono Ragdos Fling Chiaro E vabbè Graver Beans Che non esiste Bene Quindi standard Lo trovo abbastanza in salute Ciao Nembo Voglio sicuramente provare Questo Ragdos Lizard Che si è preso il 12.3% Del meta in questi Sette giorni Poi Sempre su standard Abbiamo anche una piccola Classifica di MTGA Assistant Eterabs Vi ricordo Per lui c'è Golgari Ragdos Che è Monored Azorius Artifact Grul Questo mazzo Non capisco Non l'ho mai visto Sinceramente Io questo mazzo Non l'ho mai visto Quindi Anche questo Sarà un mazzo da provare Ma non mi sa Di troppo solido Sinceramente Non mi sa Di troppo solido E Dopo Grul Arrivano Boros Golgari Monoblack Molto interessante Vediamo la lista di Monoblack Com'è Classica Un mezzo Discard Mezzo Midrange Molto bella Questa lista Classica però C'era già Questa non è cambiata In questi tre giorni Anche questo Secondo me È un ottimo mazzo Per farmare E poi Simic Credo che sia Biscottino Ma non penso Che sia vero Nel meta Sì È biscottini Ma non Non lo so Io non gli darei Un euro A questo mazzo qua Quindi ok Poi Pioneer Come va Pioneer Vediamo un po' Tutto uguale Immagino È salito un po' Fenici Raktos Amalia Tommazzo No Sempre quello Vero Non gioca Di drop cure Questa Amalia No Sì No È deep cover Non c'è Di drop cure No Non c'è Non l'hanno ancora messa dentro Perché Scombare dal cimitero Vi fa così schifo Chi lo sa Vabbè Fermo La definizione è fermo Poi Timeless Timeless Mono black È sempre tier 1 Zo No aspetta però Questi sono gli ultimi due anni Fammi vedere i due weeks Mono black È sempre tier 1 Zo è sempre tier 2 No ma Non ci va Non ci va Sui Ecco Vediamo così No Non cambia È sempre quello Non ha Si vede che non ha abbastanza dati Su timeless Vabbè Timeless Penso che non sia cambiato Poi tanto Adesso arriva Arriva la metagame Credo che siano Abbastanza forti Gli scam deck I controlli Siano sempre Dei tier 2 Credo che Sia molto forte Breccia Eh non breccia Scusate Breccia modern Show and tell Show and tell Deve essere ancora molto solido Gatti Sarà Giocato tanto Non so dirvi se è forte Come in historic So che sarà giocato tantissimo Perché Tutti ce l'hanno Da historic Dubito che Titanfield Sia rimasto un mazzo Penso che sia sceso molto Così come penso Jund Ma poi in realtà Il Il meta Timeless Secondo me è molto facile Da intuire I mazzi Rotti Che ti possono fare Spell gratuite Nei primi turni O citare Spell gratuite Spell grosse Sono i mazzi Sempre più forti Eh ecco Esatto Nembo Esatto Allora non ci sono andato Troppo lontano Peccato A me non piace Questo meta Nel senso che Continuo a dire Che È un meta Metà È un meta Metà E finché non bilanciano La possibilità Di avere Così tante Spelli impattanti Nei primi turni Non Non so se mi piace Però Passi avanti Li sta facendo Eh Passi avanti Li sta facendo Sono contento Ah in best of 3 Ancora un mazzo Vero Ok Ntgg Ha pubblicato Una tier list Adesso dopo Andiamo a vederla Poi Questo è Vabbè standard L'abbiamo già visto Ma questo tra l'altro Untappet ha dei deck Veramente orridi Alchemy Mi interessava Perché è uscito È uscito Alchemy nuovo Però non penso Che abbiano già aggiornato I mazzi Di Alchemy Parla solo Untappet Sembra che non esista Allora Questa è una È una classifica vecchia Io immagino Ma immagino A cervello Che con le carte nuove Che abbiamo analizzato Allora Penso possa essere salito Topi Forse Perché era già forte In realtà Quindi è rimasto stabile Probabilmente Topi Secondo me Quello che ha preso La botta vera È il coniglio verde bianco Che ha Convoke Quindi immagino Che i Seresni Ad Elk Abbiano preso Un bel tool Ho un po' paura Che si torni a Una situazione In cui Convoke È molto forte Forse più nei colori Selesnia Che nei colori Boros Ma già prima In Alchemy Era forte Selesnia Se non ricordo male Invaso dai Topi Anche lì Eh ma Perché il problema Di Alchemy Adesso Credo Eh Poi correggetemi Se è cambiato Se è cambiato qualcosa Con l'uscita Delle carte nuove È che è molto aggro È molto aggro Forse troppo aggro Anche perché È uscito Lord of the Rings Lord of the Rings Dava delle carte Come anello del potere Che Rallentavano un pochino L'aggressione pura Delle creature Credo che adesso Senza È solo aggro Eh minchia Allora Male Allora molto molto male Lo proverò Se si conferma Veramente solo aggro Ragazzi No Resta Alchemy Un problemone Sì anche qui Sono vecchie Queste Queste pagine Bene Quindi Questa è la situazione Di tutto Magic Arena Eh Manca historic Vediamo historic Vediamo historic Vediamo historic Se è cambiato qualcosa Dubito Dubito fortemente Che sia cambiato qualcosa Dimmi che hai Gli ultime due settimane No Allora Qui ci dà ancora Boros Energy Io vi dico che Secondo me Boros Energy Adesso sta sotto Mardu Energy Mardu è più forte Mono G Ecco Mono G Devotion Secondo me è salito molto Perché Mono G Devotion Adesso splittato col bianco È un mazzo vero Infatti lo giocano Con Elesh Secondo me Mono G È veramente forte Veramente Veramente forte È diventato Un mazzo molto forte Ciao Baina Come lo vedi attualmente Affiniti in historic Se non è cambiato Con l'uscita di Alchemy Fa cagare Perché è un mazzo Molto instabile Da quello che ricordo Però Potrebbe essere cambiato Qualcosa in questi tre giorni Che io Mi sono perso Ma Non credo che sia salito Qui lo indicano ancora Come tier 2 Ma secondo me Anche questi dati Non sono Non sono aggiornati Maghi Maghi come sta andando Ah Normale Molto normale Molto normale Pensavo meglio Molto normale In realtà Cioè Per essere Arena Qualifier Storica Best of One Ma questo è vecchio 20 agosto 20 agosto Fammi vedere Questo è un 3-3 Banalissimo Questo è quello di Delmo Che ha il 72% Quindi è normalissimo In realtà Mazzo normale Maghi Buonissimo aggro Buonissimo aggro Però normale Pensavo meglio Pensavo di più E invece Mardu Lo sta contenendo Allora Mardu Mono G Bene 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 È una buona cosa È pessimo il fatto Che i control Stiano scendendo A Zorius Non ce la fa quasi più A stare dietro A tutto il meta Perché deve rispondere A più Scusami Vabbè Questa lista Facciamo stare Comunque In generale Control Penso che stia scendendo Parecchio Penso che stia scendendo Parecchio Non esiste Finiti Meta di storia Ok Allora È come penso io Una merda Ok Va bene Mi trovo soddisfatto Nel senso che Più o meno Siamo lì eh Ragazzi Cioè Non è cambiato Un granché In questi tre giorni Adesso andiamo a testare Le Le carte alchimini Storic Direi Sono molto curioso Della company nuova